Bentornati, una favola nera, un thriller psichedelico, un viaggio onirico troppo celermente liquidato come grottesco, questo Denti tratto da un romanzo omonimo di Domenico Starnone e sceneggiatura del regista, per questo film uscito nelle sale il 13 ottobre di 21 anni fa del 2000. Un pastiche, dice Irene Begnardi, la critica umanistico digitale che esce dai consueti limiti ben educati del cinema italiano. Andiamo subito alla trama. Antonio, docente quarantenne di filosofia, nevrotico e non finito, ha sempre avuto problemi con i suoi dracule incisivi e fin da piccolo ha provato a disfarsene anche in modo violento. Sarà la sua convivente Mara, per la quale ha abbandonato moglie e figli, a romperli con un posacenere durante una lite a causa della gelosia che Antonio prova per lei, convinto che abbia una relazione proprio col suo dentista Luca. Antonio inizia così un'odissea odontoiatrica, sempre definizione della Bignardi, da un dentista all'altro per farsi sostituire gli incisivi, scoprendo che dentro le sue gengive sanguinanti esiste molto di più, forse una terza dentizione, cioè una nuova identità. Non è mai troppo tardi per cambiare. Un film che nel trailer recita perché il passato sta tornando, cosa vuole da me? Domanda che ci siamo posti tutti, eppure più volte e a più età della nostra vita. Quindi è chiaro che anche se il film non è stato realizzato per compiacere le più larghe platee, a tre anni dal suo maggior successo economico, Nirvana, anche se magari Salvatore voleva aprire certe tematiche anche al grande pubblico, tratta un argomento, il passato, che risorce, come uno zombie psichedelico fra i neuroni della nostra mente, un messaggio che ci riguarda tutti. Che rapporto c'è fra l'identità psicologica e la nostra corporeità? L'anima nei denti. Esiste una memoria stomatologica? Certo, pensare il passato, anzi vederlo, è un'operazione impegnativa, che richiede un appuntamento preciso e indelocabile, come quello fissato col proprio dentista. Provate un po' a cambiare appuntamento al dentista e questa cosa vi farà impazzire. Provate a saltare l'appuntamento, prima di averne uno passa almeno un mese, intanto nella vostra bocca bacilli e microbi, o per stare sul film pensieri e nevrosi, diventano ancora più forti e dannosi. Quindi il passato deve essere affrontato, ma non per soggiacervi, tutt'altro. Affrontare significa rendersi più robusti e magari cambiare. Cambiare, magari. Salvatore è stato il primo anche a farci avere un'altra idea cinematografica della figura del dentista. Prima di questo film al cinema il dentista per eccellenza era il nazista, il dottor Christian Sell di Lorenzo Lever, del Maratoneta di Schlesinger del 1976. Il film Hoffman è uno studente di storia, ad esempio. Qui Rubini è un prof di filosofia, storia e filosofia, stessa classe di concorso, perlomeno da noi in Italia. È una forzatura o nessun critico che abbia pensato a questo. Boh. Poi, venti anni dopo, esatti, nell'87, sentiamo questa battuta. Ma non ti rovini i denti con tutta quella cioccolata? Ho un amico dentista. E cosa vuol dire? Se avessi un amico patologo? Questa battuta è del film Marrakesh Espresso 1987, a vent'anni, ripetiamo, dal Maratoneta. Già nel film Marrakesh Espresso, Salvatore ci dice che è una categoria, quella dei dentisti, su cui intende soffermarsi, che lo incuriosisce. E va tant'uono che perde un dente a panino, proverà la bravura di un dentista tedesco che opera a Marrakesh dicendo che è bravissimo. All'epoca pensiamo che fosse curiosa questa idea di mettere un dentista in un film. Era sicuramente originale e singolare. Ci colpì, ma lo mettemmo nei recessi della memoria. Poi è arrivato Denti. Attenzione da non confondersi con quel film bruttissimo nel 2007, Denti, su quella, come dire, la trama. È veramente irriferibile. Lasciamo perdere. Qui i dentisti sono molto caricaturali e simbolici, è evidente. Non sta parlando dei dentisti veri, Salvatores. Anche se vuole sottolineare quanto il corpo si senta nudo, indifeso davanti alla medicina, davanti alla scienza, molti dottori si sentano degli dèi in terra perché dispongono dei nostri corpi. I dentisti che ci presenta Salvatores sono ben cinque in questo film, uno più strano dell'altro. Innanzitutto c'è Luca, il dentista della convivente di Rubini, quella che Antonio, il personaggio di Rubini, pensa che sia l'amante di Mara, Tom Novembre, doppiato da Luca Ward, che la corteggia in modo plateale. E questo è un problema perché il nevrotico protagonista è anche gelosissimo. La gelosia balza fuori aggredendomi e se ne va lasciandomi devastato. Poi l'altro dottore da cui va Antonio, c'è Rubini, il dottor De Rosa, poi il dottor Calandra che dice quella frase verissima sulle donne. Le donne entrano nella tua vita in punta di piedi e poi diventano indispensabili, non riesci più a liberarti, non se ne può più fare a meno e questo ci rende dipendenti, la dipendenza ci rende fragili e nervosi. Poi c'è il dottor Lotto che si diverte a prendere le impronte delle bocche dei pazienti e che rilascia una lezioncina morale al transfugo protagonista. Pensi ai suoi figli, noi quello che dovevamo avere lo abbiamo già avuto, ora tocca a loro. E poi come in un videogioco c'è il mostro finale che è anche il primo dentista da cui andava il protagonista da bambino, il dottor Cagnano, un monumentale Paolo Villaggio, defantozzato finalmente, senza maschera, senza infingimenti che sembra essere un cialtrone ma in realtà più che dentista è un vero sciamano che opera nella cucina di casa sua, sciamano con strega al seguito interpretata da Angela Godwin che voi ricorderete come tragica moglie del Perozzi, di Amici miei. Il personaggio di Rubini non avendo avuto una figura maschile forte di riferimento e geloso e insicuro come il padre, il padre che gli appare addirittura per chiedergli se la madre lo ha mai amato ed essendo affetto da un evidente complesso edipico, le scene con la madre sono alcune poetiche altre ironiche come quando la madre non sa dargli una risposta ma gli può offrire una fetta di torta, ma trova anche il coraggio con l'aiuto delle donne perché nell'ottica del film, ripetiamo, sono le donne a dannare e a salvare contemporaneamente. Notevole la figura dello zionino, l'unica figura maschile solida però anche quella fraintendibile interpretato da un Fabrizio Bentivoglio in grande spolvero che regala una delle più belle lezioni di filosofia di tango del cinema, chiamando il nipote a danzare addirittura all'interno di un bicchiere, sempre con questi inserti onirici, in uno di questi tanti inserti onirici del film. E poi il dottor Beluga che simboleggia la violenza sorda del maschio che è impotente di fronte alla magnificenza della donna non trova altro da fare che distruggerla, quanto è ancora attuale questa tragica problematica della violenza degli uomini sulle donne, problematica ogni volta sul giornale dobbiamo leggere questo strazio, problematica che andrà trattata al più presso, anche con leggi più severe, risolutive, la giurisprudenza deve fare qualcosa alla violenza sulle donne, è inaccettabile, è un no, è un no, chiaro? È difficile da capire? Salvatore ci presenta anche un parterre di donne non indifferente, la ex moglie Cinzia, interpretata da Alessandra Delia che non riesce ad odiare il marito nonostante l'abbia lasciata e non gli passi i soldi per i figli, dove gli dice quella frase fortissima te lo dovevi strappare il cuore, ma il protagonista è impazzito per questa Mara, è preso dalla passione per Mara, è ben interpretata da una sensuale e comunque accudente Anita Caprioli e poi tanti simbolismi femminili, tante donne streghe, fate, sirene, donne che non appena non vengono considerate scompaiono, quante, l'attrice napoletana Olimpia Di Maio che parlava con la madre di Antonio, di quella strega che si era innamorata di suo figlio e lo aveva stregato, quante madri pensano, madri di maschi, pensano questo delle nuore, la madre con accento francese di Anouk Grimbert, una madre che se n'è andata troppo presto quando Antonio il protagonista era tredicenne e forse responsabile, anzi quasi sicuramente, del suo blocco emotivo. Altro personaggio di cornice in sottofondo ma importantissimo è la Location, una irriconoscibile Napoli periferica, che è anche luogo di nascita di Salvatores fra l'altro, poi trasferitosi a Milà, scientemente non cartolinesca, fatta di cortili che si aprono come scatole cinesi, mercati ovvero sucche del pesce, angoli adibiti a teche della santeria e di religioni animiste che convivono con ultracattoliche chiese barocche, Napoli come città onirica di ponte fra Oriente e Occidente. Possibili punti deboli del film non per noi ma la critica lo ha trattato molto male, abbiamo letto recensioni quasi infastidite per questo film dove Salvatore si è stato accusato di essere, di tentare di volare troppo alto, lui che è uno dei migliori registi che abbiamo in Italia se non lo fa lui ma chi? In parte che tutti devono osare. Quindi questa stroncatura della critica è andata di fatto da cui non possiamo prescindere, fare film non allineati porta anche a questo, una sceneggiatura forse troppo frammentaria? Ma anche lì buona parte del film è un otto e mezzo, è uno stream of consciousness con la voce off del protagonista che si fa domande importanti e non tutti sono disposti a sentirle, forse il fastidio della critica viene da qua, specie chi va al cinema per mero intrattenimento come larga parte del pubblico, per carità, De Gustebus lungi da noi criticare non stiamo giudicando, stiamo semplicemente facendo una ricognizione delle possibili delle possibili motivazioni che non fecero funzionare questo film nel 2000, ma un film per sempre, magari non ha funzionato 21 anni fa, forse perché precorreva i tempi, magari può funzionare oggi. Altro punto debole cos'è? Una trama esile tutta avviluppata sul protagonista? L'eccesso di viaggi unirici, ricordiamo che Salvatore è stato uno dei primi registri italiani a fare uso del digitale, ma questi viaggi unirici destabilizzano, estragnano troppo la narrazione per il... come dire, per lo spettatore medio? Vabbè, casa di produzione c'è Chigori Colorado Film, fotografia Italo Petriccione, montaggio quasi da videoclip di Massimo Fiocchi, musiche generazionali Procularum di Purple e musiche New Age di Mara Redighieri Eust Mamò e le altre realizzate quasi interamente a Lucca e al mio studio basement da Teo Teardo e Federico De Robertis. Effetti digitali di... comunque molto ben fatti e suggestivi di Digitalia. Vabbè, credo che da questa recensione, da questa video recensione, abbiate capito che quello che per molti sono punti deboli per noi sono il bello del film. Un film che consigliamo che fa indubbiamente riflettere sui grandi interrogativi della vita, dov'è la felicità, dipende da noi, siamo soggetti al fato e nulla cambia, o tutto cambia, come ci tratta la vita, come trattiamo noi la vita. Questo spetta a voi dirlo dopo aver visto o rivisto un film comunque importante della filmografia salvatoresiana. Molte volte ci lamentiamo di non avere direttive nella vita, di non avere indicazioni. In questo film ci sono, Salvatore e Starnone vogliono darci, come dire, delle linee interpretative, vogliono indicarci perlomeno quali sono le cose importanti dell'esistere, dell'esistenza. Ci sono, grazie anche alle riflessioni di Starnone da leggere, anche il suo racconto lungo da cui questo film è liberamente ispirato, l'abbiamo già detto all'inizio, lo ripetiamo, Denti di Domenico Starnone. Ci lamentiamo di non avere istruzioni per l'uso e poi crediamo al primo oroscopo che leggiamo. Andiamo al di là dell'oroscopo, usiamo il cinema anche per capire, per capirci, diamo fede all'arte, usiamola, è qui per noi. Denti è un film difficile e coraggioso che sceglie un percorso narrativo psichedelico, un noir fantasy, un horror della psiche, disse in un'intervista Salvatore, che va ben al di là dei consueti canoni del cinema italiano e questo ci teniamo a ripeterlo. Un film sul coraggio e la necessità di crescere e di entrare una volta per tutte nella zona dell'adultità. Recuperatelo o rivedetelo se l'avete già visto. Vi ricordiamo di leggere sempre le informazioni in descrizione e se volete di iscrivervi a questo canale. Grazie, alla prossima.